E' un finale in Madrid, 3-1 da Red Star E' un finale, vuoi fare Champions League finale Per il finale, vuoi fare Besto il finale, vuoi fare C'è il finale, vuoi si è un' così, cioè un' così Oh, mi spettacolo per te con me. E' un'altra merida. E' un'altra volta che si può fare un'altra volta, non è tutto quello che vedo il finale. e di più di questo, la chanza di UEFA Champions League. Il champion. La prima volta da Igor Borzanovic, la prima volta da Lazić, come per Barsi, ma non c'era l'autogolo, Tore si è giocato, da Borzanovic, da Borzanovic, da Borzanovic non c'era l'autogolo, non c'era l'autogolo. Darko Lazić, come per l'altro per 1-0, Darko Lazić. Sveto, Borzanovic, da Ignatijevic, a Ignatijevic, a soka l'opta, non c'era l'autogolo, non c'era l'autogolo, ma non c'era l'autogolo, da Lazić, si è giocato, da un'autogolo, 1-1-0. Svegli mi se da Zlizaši reše Ava Alisah, dove è gol da 2-0. Ava Alisah, mozano, riešava pitanio, non c'era l'autogolo. 2-0 Ava Alisah, impresivno. Ava Alisah, da l'autogolo, da Lazić, Nikola Lazić, probio je ovdje, Nikola Lazić, štirao. Kovan, odbio l'autogolo, da l'autogolo, da vršo na mreži. Real Madrid, da valiki, 2-0, 20-o minuto suzreka. Sada è sve goto. D'Arko Lazić, D'Arko Vagolović, D'Arko Vagolović na ovu. Oggi non si un'akon di Riesa Vičević. Ako d'ate, koko a Ignatijevic, drugo drzavo loptu vukali, Ignatijevic, Ignatijevic, un'assavio, brazilac, brazilski udarac. Evo ma n'e odbio d'udek ali samo na vladović i Alzić uparali iz prve. Kroz n'e, kroz Pisa, što bi rekli to kroz nared. Udek, saš i dimi je, turkinja što nose. A ovo te da, bomba, 3-0. Evo, gole, narje naroženja, suje, k Roman. Molto še se odbilo, je. Krilatka je bio l'oša iz Vjelovog krila zvezda, non è stato un po' di più, non è stato un po' di più, non è stato un po' di più. Non è stato un po' di più, è quello. Oh! Come! 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 Class! It's been a tough contest, it's been a tough contest. It's been a tough contest. It's been a tough one, and the one is definitely going to be in the final. Grazie a tutti